Grazie di cuore per questa presentazione, grazie per l'invito a essere qui stasera ancora una volta alla Domus Orobica, almeno una volta all'anno. L'anno scorso era stato un piacere fare la prima conferenza dopo la riapertura dai lockdown più duri, Dario si ricorderà, credo ai primi di maggio, conferenza ai primi di maggio, uscivamo appunto da quel lungo incubo del 2020. Questa sera siamo qua per guardare ad un episodio del passato recente che a nostro avviso, ne abbiamo parlato anche qua già da tempo, però nel maggio di quest'anno c'era ancora qualche problemino e allora in extremis, prima che finisca l'anno, quest'anno diciamo così di ricorrenza, questa sera appunto ricordiamo Bobby Sands. L'anniversario che ricorre quest'anno è il quarantesimo anniversario della sua morte, del suo sacrificio. Suo e di altri nove, compagni dell'Ira che parteciparono allo sciopero della fame, che anche prima abbiamo sentito già descritto e che adesso vedremo di raccontare in questa serata. Nel frattempo direi che è passato qualche mese e stasera vorrei anche ricordare un altro anniversario importante che riguarda l'Irlanda. La serata di stasera è dedicata a Bobby Sands, ma più in generale all'Irlanda. Perché? Perché quest'anno cade anche il centenario della fine della guerra anglo-irlandese. La guerra che portò appunto nel 1921, il 6 di dicembre del 1921, agli accordi, agli accordi tra i ribelli irlandesi e il governo inglese. Quindi si potrebbe, e con la proclamazione del Free State, cioè il libero stato di Irlanda. Uno stato appunto non ancora pienamente sovrano, ancora soggetto alla corona inglese. Ricordiamo che la proclamazione definitiva, la nascita della Repubblica di Irlanda verrà solo dopo diversi anni, nel 1948. Però il 1921 è sicuramente il punto di cui ricorre il centenario, è un anno determinante, perché da una parte termina il conflitto anglo-irlandese, potremmo definirla la guerra d'indipendenza irlandese, quella che era scoppiata nell'aprile del 1916, lunedì di Pasqua, con la rivolta e con la proclamazione appunto della Repubblica di Irlanda, naturalmente non riconosciuta, e poi con la durissima repressione di quella rivolta. Da quella rivolta però nasce un risveglio del paese, dopo tanto tempo, dopo tanti secoli di oppressione, riprende nonostante, come dire, l'iniziale disastro, la sanguinosa repressione della rivolta, nasce però una vera e propria guerra che proseguirà e che si concluderà al 1921, però si concluderà con l'apertura di un ulteriore nuovo conflitto. Perché, e adesso comunque sto dando una sorta di sommario di quello di cui parliamo, gli accordi di pace, gli accordi che sanciscono la nascita del libero Stato di Irlanda, il State, stabiliscono però che una parte del paese, sei contee dell'Irlanda più settentrionale, della provincia dell'Alster, nemmeno tutto l'Alster, perché tre contee rimangono a far parte, entrano a far parte alla Repubblica, ma sei contee vanno a costituire una sorta di provincia staterello artificioso, chiamato appunto Northern Ireland, che rimane come una sorta di cuneo piantato nella terra, nell'isola di Irlanda, a ricordare appunto la presenza dell'impero britannico. Questo piccolo, come dire, questa realtà amministrativa, Northern Ireland, dà ragione di esistere a quell'entità appunto amministrativa, anche qua secolare, chiamata Regno Unito, di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, là dove anche Gran Bretagna è una realtà, come dire, abbastanza fittizia, perché comprende anche, oltre all'Inghilterra, la Scozia soggiogata nel XVIII secolo e il Galles. Quindi Regno Unito, come oggi ancora viene chiamato, United Kingdom of Great Britain Northern Ireland. E questo staterello, questa provincia, questa amministrazione dell'Irlanda del Nord, apre una ferita sanguinante e ancora aperta, nonostante tutto, perché appunto l'Irlanda è divisa, rimane divisa tra appunto la parte che si è liberata, che ha ottenuto, se non l'indipendenza, almeno un'autonomia, e poi però queste sei contè ancora direttamente soggette all'impero britannico. E da lì nasce tutta la questione nord-irlandese, che porterà 60 anni dopo il 1921, ai fatti che descriviamo questa sera, a Bobby Sands, eccetera. Allora, cominciamo a entrare nel vivo. Ecco, questa è la prima immagine, questo è il nostro Bobby Sands, cioè Robert Gerard Sands, detto Bobby. In irlandese si pronuncia più o meno nello stesso modo, però questa è l'antica lingua gaelica e con il cognome gaelico Ossens. Vedete, nato nel 1954 e morto nel 1981 a soli 27 anni. Andiamo quindi a vedere, questo è un murales che chi è stato a Belfast sicuramente conosce bene. L'Irlanda del Nord, specialmente nelle due grandi città, il capoluogo Belfast, città martire, teatro appunto di scontri, ininterrottamente dal 1921, perché come dicevo prima finisce la guerra anglo-irlandese, ma poi appunto inizia quella che viene chiamata la partizione, la separazione. E tra l'altro, ecco, questo adesso lo vedremo, un'altra ferita sanguinante, non tutti accettano quel trattato di pace, anzi, praticamente il paese si divide nei pro-trattato e negli anti-trattato, dando luogo ad una guerra civile, a una guerra fratricida tra irlandesi, tra camerati che avevano combattuto uno a fianco l'altro fino a poco prima contro gli inglesi, che poi si ritrovano invece gli uni contro gli altri. Ecco, quindi sono stati tutti questi anni e il conflitto si è radicato. Quando mi sento dire ma come mai ancora, in piena Europa, anzi, mi ricordo negli anni Ottanta, appunto quando ci fu la crisi del 1981, per molta gente era una cosa assolutamente incomprensibile, no? Nell'Europa occidentale, nell'opulenta Europa occidentale c'era ancora un conflitto. Un conflitto che la stampa, come sempre, la stampa fa il suo lavoro, che è quello di disinformare, nell'81 come nel 2021. La disinformazione ufficiale, come dire, rendeva difficile capire. Io che avevo già iniziato ad andare e venire dall'Irlanda, come l'ho fatto appunto per tanti anni, cercavo di spiegare già allora, no? Molti la prendevano, diciamo, è una guerra di religione. No, certamente, è chiaro che la religione ha un aspetto fondamentale, serve soprattutto, peraltro, come elemento di riconoscimento identitario. Chi è il cattolico in Irlanda? È l'autoctono, è quello che ha vissuto lì da sempre, è l'irlandese, perché, adesso vi faccio vedere, poi torniamo ancora magari su Bobby, ecco, questa è l'Irlanda, no? E queste sono le quattro province dell'Irlanda. L'Alster a nord, il Leicester a est, il Connacht a ovest e il Munster. Questo, l'Irlanda è così da 4.000 anni, da quando nacquero questi piccoli regni, cioè perché erano dei regni, oltre che delle province, nel centro della provincia dei Leicester c'era la città che era Tara, che era la sede dei re supremi. Ogni provincia aveva il suo re, anche all'interno delle varie province c'erano i capi. La struttura sociale dell'Irlanda antica era la struttura celtica, basata sul clan, potremmo dire la tribù, insomma, i consanguinei, coloro che riconoscevano un comune progenitore, tanto che i loro cognomi erano cognomi che derivavano da colui che era stato il fondatore della famiglia. Quindi gli O'Neill erano i discendenti di un mitico Nill, O'Connell i discendenti di un Connell e così via. O vuol dire discendenti di. Quindi queste erano le quattro grandi province dell'Irlanda. Poi sorgeva una città quasi sacra, Tara, che era la sede del re supremo. Ogni provincia aveva il suo re, poi c'era un re che era il re supremo Ardry, cioè l'alto re, che era colui che appunto governava su tutta l'isola. Quindi l'isola, la civiltà irlandese è una civiltà antichissima, è una civiltà stata forse l'ultimo avamposto dei Celti, popolo d'Europa, compreso la nostra terra, che è terra anche celtica, ma in Irlanda la civiltà celtica era rimasta ovviamente isolata da tutto il resto del continente, da quello che era accaduto sul continente. Praticamente l'Irlanda viene in contatto con il resto d'Europa solo dopo la caduta dell'impero romano. Il crollo dell'impero romano fa sì che appunto crollino anche i regni celto romani della Britannia e visto che la Britannia, cioè l'attuale Inghilterra, era nel caos totale. Alcuni predoni pirati irlandesi facevano dei raids sulle coste inglesi, saccheggiavano e qualche volta portavano via degli schiavi. Tra questi schiavi ci fu nell'anno 432, quando torna Patrizio, nell'anno 407 portano in Irlanda questo ragazzo di nome Patrizio, che poi riesce a fuggire dopo aver fatto lo schiavo, il guardiano di Porci per alcuni anni, fugge e torna in Britannia, poi colpito da questa esperienza drammatica diventa sacerdote e poi tornerà molti anni dopo appunto nell'anno 432 a evangelizzare l'Irlanda e a darle quell'identità che ha sempre poi avuto, gli ha dato anche i simboli, in primo luogo il trifoglio, che è ancora oggi il simbolo dell'Irlanda, quello che sulle maglie delle nazionali di calcio, di rugby, eccetera, portò la lingua, portò il contatto appunto Patrizio con l'Europa. E portò anche ovviamente la fede, una fede che è sempre stata una fede profondamente, una fede intensa, una fede quasi unica nell'ambito anche della cristianità europea, appunto quella della fede irlandese, il cristianesimo celtico irlandese. E invece però appunto ritorno dove sono partito, perché ho aperto questa lunga parentesi per dire una guerra religiosa. No, non era una guerra tra cattolici e protestanti, ma semplicemente cosa era accaduto nel corso dei secoli. Quando l'Inghilterra conquista l'Irlanda nel XII secolo non c'è una differenza religiosa. L'Inghilterra è ancora cattolica, l'Irlanda è cattolica, ma con Enrico VIII ovviamente si crea la riforma protestante, Enrico VIII sapete bene com'è la storia, rompe con Roma, fa una chiesa a propria immagine e somiglianza, una chiesa protestante e costringe tutti in Inghilterra per primi a seguirlo. Chi si oppone finisce sul patibolo. Questa chiesa di stato, questa chiesa protestante diventa un vero e proprio strumento, un regno, cioè proprio semplicemente la proiezione del volere del sovrano su un resto della nazione. La chiesa diventa, come dire, una chiesa o di martiri o di apostati, cioè gli apostati quelli che abbandonano la fede cattolica per diventare, come dire, i seguaci di questa nuova religione di Stato. Esattamente come sta accadendo adesso, sono poche parole. Noi in Inghilterra, qui, dove c'è una chiesa che segue pedissequamente lo Stato e poi invece ci sono pochi, come dire, resistenti che non si adeguano. Allora, cosa successe? Che questa religione di Stato diventa il modo semplicemente per imporre la volontà del sovrano, del Parlamento, della oligarchia britannica. E questo si afferma più che con Enrico VIII o con Elisabetta II. E così cosa succede? Durante già il regno di Elisabetta II, l'Irlanda viene colpita anche da questa persecuzione religiosa. I cattolici vengono messi fuori legge, vengono confiscate le proprietà, vengono uccisi, vengono torturati, eccetera. Ma a differenza di quello che era successo in Inghilterra, dove la gente impaurita si era, come dire, adattata ed era entrata a far parte della chiesa di Stato, la chiesa anglicana, in Irlanda la stragrande maggioranza della gente resiste. Resiste e rimane attaccata alla propria fede e quindi non ci sono, come dire, soluzioni alternative. Se rimani attaccato alla tua fede vieni perseguitato, vieni ucciso, eccetera. Nonostante questo continua la resistenza irlandese e allora il governo inglese decide, prende una decisione che è quello che determinerà la nascita poi alla lunga del conflitto nord-irlandese. Cioè impianta, fa venire, favorisce le migrazioni di decine di migliaia di coloni nell'Alster. Perché? Perché l'Alster era, pensate, appunto, questa è l'Irlanda, qui accanto a destra c'è l'Inghilterra e sopra la Scozia. Fanno venire, fanno affluire nell'Alster, che è la zona più vicina alle coste britanniche, un numero di, appunto, coloni che si stabiliscono lì e che devono fondamentalmente corrispondere ad un requisito. Cioè vengono regalati a questi coloni le terre sequestrate, confiscate agli irlandesi, agli autoctoni, ai residenti, agli abitanti, a chi era lì da secoli e queste terre vengono date a questi coloni. In cambio questi coloni devono assicurare totale e assoluta lealtà alla corona. Tant'è che, appunto, noi dicevo, quando noi, soprattutto negli anni del conflitto, eccetera, si parlava di questo scontro, cattolici contro protestanti, in realtà dovremmo dire, dovremmo utilizzare i termini stessi che usano i protestanti, o quindi i discendenti dei coloni arrivati all'inizio del Seicento, un termine che è loyalist. Loro si definiscono loyalist, cioè lealisti. Cioè, dopo 400 anni, loro continuano a ribadire la loro lealtà a Londra. Quindi, pensate, è una comunità, quella protestata dell'Irano del Nord, stabilita da generazioni, da 400 anni, eccetera, eppure continuano a definirsi leali, a sbandierare la Union Jack, eccetera. Quindi, vedete, non era tanto un conflitto di tipo unicamente religioso, o meglio la religione, era uno di quei elementi atti a individuare appunto l'irlandese, l'irlandese autoctono, l'irlandese quindi affezionato, amante della propria patria, della propria storia, della propria tradizione, e dall'altra parte questa comunità lealista, con queste origini, quindi alla fine potremmo definire la guerra, il conflitto nord-irlandese, l'ultimo dei conflitti coloniali, l'ultima delle colonie britanniche, la prima in fondo, perché inizia la conquista, come dicevo prima, nel XII secolo, e forse anche per questo la grande avventura, la grande e terribile avventura dell'impero britannico, di tutte le sue conquiste, non dimentichiamo che nell'Ottocento i tre settimi del mondo erano colonie britanniche, che erano tutte, pensate, l'India, l'Africa, l'Asia, ovunque, ancora naturalmente in America, il Canada stesso, che è ancora oggi un dominion, il Canada non è una repubblica, il Canada non ha il presidente della repubblica, il capo dello Stato canadese è la regina, e quindi c'era un controllo del mondo assoluto, il più grande impero della storia, come estensione, quindi più grande di quello romano, eppure a tener testa questo impero c'era questa piccola isola, e anche nel cuore della prima colonia, perché appunto perché l'Inghilterra non ha mai voluto saperne di cedere, di restituire, di dare piena libertà all'Irlanda del Nord, proprio perché da lì è partita l'avventura coloniale, è lì, insomma, è quasi il cuore e l'origine dell'impero. Allora, andiamo avanti, ecco, questa occupazione dell'Irlanda dura praticamente attraverso i secoli, adesso non sto qua a ricordarvi il numero impressionante di tentativi, perché dice, ma gli irlandesi hanno accettato tutto questo, l'occupazione della loro terra, l'arrivo di decine di migliaia di coloni, certo che no, e quindi nel corso dei secoli sono stati veramente tanti i tentativi, ma sempre frustrati, sempre schiacciati. Qualche volta gli irlandesi cercarono anche un aiuto dall'esterno, e questo adesso ve lo dico per giustificare, per spiegarvi un nome, che ricorrerà poi in questa serata, spesso si aspettarono qualche aiuto dall'esterno, guardarono per esempio durante le guerre napoleoniche, beh, chiaramente Napoleone era contro l'Inghilterra, e quindi gli irlandesi presero contatti con Napoleone, gli dissero, beh, sbarca, sbarca, noi, come dire, ci rivoltiamo, apriamo una ribellione, e poi, come dire, questo potrebbe anche agevolarti, devi spostare, l'Inghilterra dovrà spostare truppe dal continente qui, e questo potrebbe mettere in difficoltà nelle guerre sul continente, e tu in cambio, come dire, Napoleone ci aiuti a diventare liberi. Ma Napoleone non aiuta l'Irlanda, non manda neanche una nave, non manda nessuno, l'Irlanda, 1798, tenta comunque una ribellione, è un bagno di sangue. Ancora, insomma, più volte l'Irlanda provò a guardare ad altri, ad altre nazioni, a qualcuno che magari fosse, se non amico dell'Irlanda, magari in conflitto con l'Inghilterra. Ci provò anche durante la prima guerra mondiale, la prima guerra mondiale, contatti col governo tedesco, sempre la stessa tattica, come dire, la stessa proposta, facciamo, accendiamo un focolaio di guerra qui, gli inglesi devono spostare truppe, questo li scopre da un'altra parte, tu vinci sul continente e noi siamo liberi. Ma anche qua, salvo l'invio di qualche contingente di armi, la Germania del Kaiser non diede nessun tipo di aiuto. Contatti del genere ci furono anche nel 1939, con la Germania del 1939, ma anche qua, come dire, una certa sordità, poca comprensione, forse una svalutazione di quello che era l'Irlanda e quindi anche nella guerra, nella seconda guerra mondiale, l'aiuto atteso dalla Germania non arrivò. Peraltro non tutta, non tutto il movimento indipendentista, non tutta l'Ira era d'accordo, poi vedremo dopo come si sviluppò ideologicamente il movimento indipendentista irlandese. Comunque, stiamo alla Pasqua 1916, un gruppo di coraggiosi, un gruppo di eroi decide di tentare la dichiarazione di dipendenza e questo perché? Perché appunto negli anni che avevano preceduto la prima guerra mondiale era dato un movimento indipendentista politico forte che si chiamava Sinn Féin e Sinn Féin noi soli. Ecco perché vi dicevo prima, l'Irlanda ha sempre cercato, ha sempre aspettato, ha sempre sperato in un aiuto esterno, in qualche potenza, anche nel 600, nel 700, che arrivasse magari la Francia cattolica, la Spagna cattolica, poi Napoleone, non è mai arrivato nessuno. E allora a un certo punto dice facciamo da soli e chiamiamo il nostro movimento Sinn Féin, noi soli, noi da soli, liberiamoci da soli, non aspettiamo più l'aiuto di qualcuno. E allora viene, come dire, nasce un movimento composito con tante componenti, c'era qualcuno anche come dire di idee socialiste come James Connolly, c'era invece un personaggio come Patrick Pierce che era una specie di mistico, visionario, gaelico, sognava appunto un'Irlanda gaelica che tornasse all'antica lingua, all'antica civiltà celtica, eccetera. Insomma questo composito gruppo di patrioti il 24 aprile del 1916 proclama la Repubblica Irlandese. Vediamo se riesco a trovare le parole straordinarie e toccanti della dichiarazione di dipendenza, perché questo è veramente qualcosa di commovente. Ecco così, inizia in questo modo la dichiarazione, cioè i rivoltosi occupano il palazzo centrale delle poste, se voi siete stati a Dublino, nella via che si chiama O'Connell Street, adesso c'è un agone di 100 metri costruito nel 2000, un po' buffo, ma appunto lì c'è questo palazzo delle poste, i ribelli arrivano, ne prendono possesso, esce dall'ingresso principale Patrick Pierce, uno dei sette firmatari, innalzano una grande bandiera che finora, fino a quel momento nessuno aveva mai visto, era una cosa nuova, perché la bandiera dell'Irlanda antica era una bandiera completamente verde, questo è il motivo per cui ho su questa maglia, non per qualche pass, quindi con un'arpa d'oro, l'arpa era appunto insieme al trifoglio, simbolo dell'Irlanda, ma invece innalzano una nuova bandiera che è un tricolore, bianco, verde, arancione, il bianco, allora il bianco fa da separazione, il verde, il verde dell'Irlanda, dell'Irlanda storica, l'arancione è come dire è una specie di mano protesa verso quella comunità appunto protestante, lealista, presente dal 600 e che l'arancione era il colore simbolo perché il loro eroe, l'eroe di questi protestanti e lealisti era un principe olandese Guglielmo d'Orange che alla fine del XVII secolo era diventato re d'Inghilterra per una serie di giochi dinastici, in realtà era la grande oligarchia inglese, le grandi compagnie commerciali eccetera che volevano un re travicello, un re buffone per poter poi governare loro come volevano loro e avevano come dire consegnato il trono d'Inghilterra a questo Guglielmo d'Orange che diventa il campione della causa protestante, anticattolica eccetera che sbarca in Irlanda e vince una battaglia decisiva purtroppo il 12 luglio 1689. Il 12 luglio è una data che ancora oggi pensate a più di 300 anni di distanza è festeggiato ed è proprio la giornata potremmo dire dell'orgoglio protestante, lealista e allora l'arancione è una sorta di colore simbolo della comunità lealista protestante. Però appunto questi i padri della patria irlandese dicono noi vogliamo una repubblica per tutti, non sarà uno stato confessionale, non sarà uno stato per i soli cattolici. In qualche modo c'è un invito ai protestanti dire adesso ormai dopo tutto questo tempo che siete qua, è questa, è la nostra isola, la nostra comunità di destino, entrate a farne parte anche voi, siete di origine inglese, scozzese, non importa da dove siete arrivati, da dove arrivarono i vostri padri, ora siete irlandesi, costruiamo insieme una patria per tutti. Per cui c'è questa bandiera che è ancora la bandiera dell'Irlanda di oggi, bianca, verde, arancione. Ma come dire questa offerta di entrare a far parte tutti insieme appunto di un'unica comunità destino viene rispinta. Vi leggo brevissimamente l'inizio, almeno l'incipit alla fine, perché è bellissimo, perché questo Patrick Pierce era veramente quello che potremmo definire un poeta guerriero, era un poeta, era un insegnante di liceo, ma era anche un grande guerriero e inizia così. Il governo provvisorio della Repubblica d'Irlanda al popolo irlandese. Donne e uomini d'Irlanda, in nome di Dio e delle generazioni passate da cui essa riceve la sua antica tradizione di nazione, l'Irlanda per mezzo nostro raccoglie i suoi figli sotto la sua bandiera e si batte per la libertà. Ecco, questo è l'inizio e la fine è altrettanto straordinaria perché dice così. Poniamo la causa della Repubblica d'Irlanda sotto la protezione dell'Altissimo, a cui chiediamo la benedizione sulle nostre armi e preghiamo affinché nessuno che servi questa causa la disonori con la codardia, inumanità o violenza. In questa suprema ora la nazione irlandese deve con i suoi valori, la sua disciplina e la prontezza dei suoi figli a sacrificarsi per il bene comune dimostrarsi degna del maestoso destino alla quale chiamata. E seguono le firme dei sette proclamatori del governo provvisorio che poi vennero in quei giorni tutti arrestati e tutti fucilati. Però lo sapevano che finiva così, lo sapevano e tant'è che uno di questi il giorno prima della rivolta scrisse a casa alla madre dicendo lo sappiamo che noi abbiamo pochissime possibilità di farcela, siamo pochi e davanti abbiamo appunto l'impero britannico, ma non è per la vittoria che ci battiamo, noi ci battiamo per l'onore di Irlanda. Si batterono per l'onore della loro terra e il loro sacrificio non fu vano. Perché? Perché allora è vero che furono come dire schiacciati, uccisi, tutti arrestati, però ecco vedete questi erano i leader e questo Poblach Nairian, cioè il popolo d'Irlanda e questo è appunto il proclama che vi ho letto adesso, questi erano i loro nomi. Quindi fu un bagno di sangue ma l'Irlanda si era finalmente risvegliata e anche se tutta la direzione, tutto lo stato maggiore venne decapitato, altri presero immediatamente il loro posto, tra cui, eccolo qua sulla sinistra, Michael Collins. Nel 1916 era un militante come tanti altri, dopo appunto la distruzione del movimento indipendentista fu lui poi a prendere le redini della guerra, della guerriglia e a condurla appunto per anni fino alla vittoria. e quell'altra immagine però appunto il dramma, il dramma del 1921. Quindi scusatemi se ho fatto questa lunga introduzione ma altrimenti non capiremmo che cosa successe e perché successe quello che poi ricordiamo questa sera il 1981. Eccolo qua, la firma, è Michael Collins, quindi il capo dei ribelli che firma e mentre firma il trattato che appunto vede la nascita dello stato libero e dall'altra parte però la creazione di quella presenza artificiosa, l'amministrazione britannica ancora lì con il nord Irlanda, tra l'altro ritagliato sulle, non su tutta la provincia dell'Alster, ma quelle sei con te dove c'era una maggioranza protestante e lealista e quindi potevano avere il controllo della situazione. Quindi vedete Collins disse quando Lord Birkenald sapendo di quanto il trattato sarebbe stato impopolare in Inghilterra, ma in me anche in Irlanda, commentò che probabilmente stava firmando la sua condanna a morte politica, Michael Collins replicò io potrei aver firmato la mia reale condanna a morte. E in effetti quello che accade fu il movimento indipendentista si spacca, lo Sinn Féin si spacca, l'Ira, che era il braccio armato dello Sinn Féin, l'esercito repubblicano irlandese si spacca e cominciano a combattersi l'uno contro l'altro. I favorevoli al trattato, i contrari al trattato. E l'anno dopo Michael Collins cadde vittima in una imboscata per mano appunto fratricida irlandese. Ecco allora appunto questo è quello che vi dicevo prima, la spartizione dell'Irlanda, quelli sono appunto i punti chiave. Vedete il punto 5, l'Irlanda del Sud, vede che appunto nasce come Stato libero e poi invece il governo dell'Irlanda del Nord ha accettato il diritto di separarsi da Dublino ai sensi del trattato anglo-irlandese. C'è il tutto nella legalità perché questo era stato previsto dagli accordi e vedete appunto la partizione aveva lo scopo di realizzare l'implementazione pacifica della regola interna in Irlanda. Ma alla fine lo scopo vero, l'obiettivo governo da parte inglese era quello di conservare, di avere ancora un piede e anche un piede come dire armato in Irlanda. E questo allora cosa ha determinato? E veniamoci avviciniamo adesso più velocemente ai fatti dell'81, ma senza tutto questo ripeto era difficile capire che cosa stavano facendo in Europa, nell'Europa occidentale, all'interno del Regno Unito perché c'era una guerra, perché mettevano le bombe, io mi ricordo in quegli anni, ma sì ma è una vergogna, mettono le bombe, uccidono degli innocenti e la maggior parte della gente non capiva che cos'era quella, che era una guerra coloniale, era una guerra per la liberazione di un paese occupato, appunto, l'occupazione inglese in Irlanda. Ecco vedete, arriviamo all'81 attraverso alcuni episodi chiave, questo che vedete, allora, queste sono foto prese, vedete, state entrando nella libera Derry. Derry è la seconda città dell'Irlanda del Nord, è quella che gli inglesi chiamano London Derry, io ogni volta che sento qualcuno dice London Derry capisco come la pensa, perché se dici London Derry vuol dire che sei un lealista, è un filo britannico, se uno dice Derry, il nome originale della città è Derry, allora vuol dire che sei un repubblicano, un cattolico, uno per la dipendenza dell'Irlanda del Nord. Questo è Derry e questa è una delle immagini storiche più famose. Nel 1970 ci fu in Irlanda del Nord una grande manifestazione per i diritti civili, perché voi mi direte, ma dopo il 1921 cos'è successo? Dopo il 1921, appunto, a sud, nell'Irlanda di Dublino, di Cork, di Galway, appunto, era iniziato una vita normale, eccetera, ma in Irlanda del Nord il governo locale settario, razzista, cioè nel senso di un razzismo particolare, un razzismo rivolto contro gli irlandesi cattolici, aveva creato uno statiarello di vero e proprio apartheid, cioè se eri cattolico non avevi diritti civili, non trovavi il lavoro, tirano poste, tutta una serie di limitazioni, a un certo punto, appunto, la gente, oltre attualmente ad avere ancora il governo britannico, eccetera, eccetera. C'erano nel paese delle manifestazioni per i diritti civili, il 30 gennaio del 1970 se ne svolge una che a Derry pacifica, una marcia pacifica per le vie del quartiere, proprio questo quartiere qua, dove c'è Iornau, entra in Friederri, e lì i manifestanti, ripeto, pacifici, vengono assaltati, assaliti, aggrediti dai parà inglesi, che sparano, sparano ad altezza d'uomo e lasciano per terra morti, decine di morti e feriti. Qua vedete, questo signore era un prete che era a corso, che sventolava un fazzoletto bianco perché sparavano anche sui feriti, sparavano su quelli che cercavano di recuperare, sparavano nelle strade fuori da un condominio che ho avuto un modo di vedere. Il prete arrivò e aiutò a portare via questo ragazzo di 16 anni che poi morì. Il prete poi è diventato vescovo anni dopo di Derry. Ecco, questi fatti, questa era la famosa Bloody Sunday, cantata da John Lennon, cantata poi ovviamente da Bono U2, questa domenica di sangue spaventosa. Ecco, lì forse il mondo stava capendo che c'era qualcosa che non funzionava in Irlanda, che quindi l'Irlanda non era soltanto il paese dei Folletti, della Guinness, eccetera, ma era una terra dove si stava svolgendo, e da tanto tempo, un dramma umano terrificante. E questa invece è Belfast, appunto città capoluogo, città ghetto, perché praticamente la città è divisa, anche Derry è divisa, addirittura Derry è divisa da un fiume. C'è la parte protestante, lealista, e la parte cattolica repubblicana, divisa addirittura da un muro, questo è un muro che divide due quartieri, uno è un quartiere di estremisti protestanti, Shankill Road, e dall'altra parte invece c'era Belfast cattolica. Il fatto di dividere, quasi di individuare perfettamente, di mettere la gente a vivere, non insieme, ma in quartieri separati, era molto utile, per esempio, per le forze dell'ordine, per le forze armate, sapevano dove arrivare, sapevano dove cercare, facevano anche rastrellamenti nei quartieri, entravano coi blindati, io la prima volta che andai in Irlanda del Nord assistetti a una di queste operazioni fatte con i blindati che scorrazzavano per le strade, mentre c'erano ragazzi che preparavano delle monotof. Allora, per difendere, a un certo punto nasce una sorta di movimento di autodifesa della gente, cioè la battaglia viene condotta a livello politico, però a un certo punto di fronte all'aggressione, di fronte all'esercito britannico, perché appunto nel 68, dopo anche quei fatti, le manifestazioni, eccetera, gli inglesi dicono, beh, è la teoria degli opposti estremismi, no, che va di sempre, da allora fino all'altro giorno. Bene, qui ci sono dei gruppi estremisti, protestanti, cattolici, lealisti, repubblicani, arriviamo, arriva lo Stato, quello ufficiale, e quindi arrivano anche, arrivano anche contingenti di soldati inglesi, che teoricamente dovrebbero essere lì per garantire la pace, che in realtà appunto si rendono protagonisti, appunto, di aggressioni, eccetera. Allora, viene ripresa l'Ira, cioè l'esercito repubblicano irlandese che aveva condotto la guerra di liberazione nel 1916-21, torna, viene quasi ricostituita, è una milizia volontaria, quello che li rendeva famosi per i passamontagna, ovviamente per nascondersi, perché era un movimento clandestino, e quindi nasce quella resistenza, anche armata, che poi però provocò in qualche modo la demonizzazione del movimento, no? Il militante dell'Ira, che poi spesso invece in realtà era un militante anche politico dello Sinn Féin, però veniva demonizzato, è un terrorista, è un terrorista, uno con il passamontagna, con il nitra, ecco, vedete, e nacque così il conflitto nord-irlandese, chiamato anche eufemisticamente, the troubles, i problemi, una cosa durata circa 30 anni, quindi dal 68, potremmo dire, i fatti, il movimento per i diritti civili, la domenica di sangue e così via, fino al 1998, che è l'anno in cui appunto ci sono i famosi accordi del Venerdì Santo tra l'Ira e i vertici dell'Ira e Tony Blair, che in quel momento appunto era il premier britannico, quindi vedete l'immagine a sinistra, cioè queste immagini sono di Derry, queste sono le cariche dei militari, combattimenti in strada, questa è una foto abbastanza impressionante, ragazzi che sono pronti con i bastoni, mentre da un'altra parte arrivano quelli con i fucili. Ecco, e allora arriviamo al nostro Bobby Sands, voi direte finalmente, però ripeto, era necessario spiegare tutto, se no non si capisce cosa ci facevano, questi sembrano una compagnia da pub come tanti altri, sembrano in un pub a vedere Guinness, e invece sono dei militanti, dei combattenti per la libertà. Bobby era questo. Perché? Perché un ragazzo vent'anni come lui aderisce a questo movimento, è un terrorista, no, non ne potevo più di vedere i diritti miei e degli altri cattolici nordirlandesi calpestati quotidianamente da un sistema iniquo, costruito a uso e consumo della minoranza protestante. Dice, perché minoranza? Perché ovviamente lui prende in considerazione tutta l'isola, non solo quelle con te del nord Irlanda. I miei genitori sembrano a suoi fatti, io non ci sarei mai riuscito. Lawrence McKeown, compagno dell'eclusione di Bondi. Ecco, quindi questi ragazzi non ne potevano più di vedersi limitati nelle loro libertà concrete, di vedere i loro amici finire arrestati per un non nulla. Tra l'altro appunto c'era stata una legge, gli inglesi hanno fatto una legge che sospendeva qualunque libertà. Se tu eri semplicemente sospetto ti potevano venire a casa a prendere di notte, ad arrestarti, portarti in carcere e aspettare anche per avere un processo, potevi anche non sapere di cos'era accusato, eri accusato genericamente di terrorismo. Magari non hai fatto niente, magari eri solo distribuito dei volantini, eri un terrorista. E tra l'altro appunto anche a Bobby Sands tocca di finire a poco più di vent'anni in carcere con queste accuse. Ecco, riprende anche così come era ripresa l'Ira, l'esercito repubblicano irlandese, riprende il movimento dello Sinn Féin, appunto che è stato fondato nel 1905. Jerry Adams, signora sinistra, è colui che l'ha guidato per molti anni e appunto clamorosamente l'anno scorso lo Sinn Féin è risultato il primo partito, risultato anche conseguenza dello sfascio del sistema politico irlandese, dei due principali partiti che sono tutte e due sostanzialmente due partiti centristi, due partiti moderati, uno con delle venature un po' più nazionaliste, il finnafoil, l'altro il finnafoil, una specie di democrazia cristiana, ma in realtà è anche il partito che ha voluto fortemente l'aborto, il matrimonio gay e quant'altro. Non che lo Sinn Féin attuale non abbia un'agenda, anche questo molto progressista, diciamo la verità, però per certi aspetti appunto perlomeno ha conservato un'idea di identità nazionale eccetera. Questo è Stormont, il Parlamento dell'Irlanda del Nord, questo palazzone neoclassico, è qui che appunto si è svolta la politica del Nord, nel Nord Irlanda. Un Parlamento controllato, qua l'ho tagliata deliberatamente, c'è sulla bandiera britannica ovviamente, è proprio il simbolo della presenza ancora coloniale britannica in Irlanda. E questo invece, e lo capite subito guardando le foto, è questo è un campo di concentramento. Questo è il carcere di massima sicurezza di Long Cash, dove appunto è morto Bobby Sense, dove sono morti tutti coloro che fecero lo sciopo della fame in quell'anno 1981. Si chiama H-Block, cioè blocchi H, perché vedete, sono delle vere, cioè sono delle H. Questo non è un carcere, questo è un campo di concentramento e qui venivano appunto a ammassati, già prima nell'introduzione l'ha descritto, i prigionieri in condizioni incredibili. Cioè Europa occidentale, l'Europa occidentale degli anni Ottanta, l'Europa occidentale del benessere, del benessere sfrenato. Qui invece c'erano ancora i campi di concentramento. Tra l'altro sapete che i campi di concentramento sono un'invenzione inglese, li inventarono alla fine dell'Ottocento nella guerra dei Boeri in Sudafrica. Cioè non è che sono nati i campi di concentramento con il nazismo, sono solo nati dalla fantasia perversa britannica di fine Ottocento, quando appunto nel Sudafrica mettevano lì i prigionieri Boeri. Ecco, già prima nell'introduzione si diceva, chiedevano che cosa? Chiedevano dei diritti. I detenuti facevano cinque di queste. Quando si arriva a questa crisi del 1981 che ci porta appunto a questo sciopero dalla fame fino alla morte, appunto erano cinque. A lunga quello che volevano era la libertà, l'indipendenza, la riunione delle due Irlande. Ma intanto chiedevano anche cose molto semplici. Il diritto di indossare i propri vestiti e non la divisa carcerare. Questo è importante perché erano considerati criminali, mentre invece loro erano dei patrioti, erano dei prigionieri politici e quindi da prigioniero politico volevano avere i loro vestiti, non la divisa strisce come se fossero dei comuni criminali. Diritto di non svolgere il lavoro carcerario. Oh, erano i lavori forzati. E dice perché? Tre, il diritto di libera associazione con gli altri detenuti durante le ore d'aria. Era proibito. Condizioni disumani. Diritto di avere reintegrata la dimissione di metà della pena che avevano, eccetera. Cinque, diritto di ricevere pacchi, poste e poter usufruire di attività ricreative. Cioè da carcere, non da albergo, ma perché non era nemmeno un carcere, era un lager. Era un vero e proprio lager. Ecco, questa è una rara foto di Bobby in ospedale durante il sciopero della fame. Allora, si lasciavano crescere la barba, i capelli, poi appunto gli obbligavano ad avere la divisa carceraria. Allora però si toglievano la divisa, si mettevano addosso alle coperte, nudi in cella, eccetera. Fino a un certo punto, fino al punto in cui a un certo punto dicono non si può più andare avanti così, non ci vogliono ascoltare. Il governo britannico non vuole nemmeno negoziare. Almeno dici parliamone. No. E allora ricorsero allo sciopero della fame. Ma non alla pannella, tanto perché, tra l'altro, lo sciopero della fame era un antichissimo uso celtico dell'Irlanda antica. Quando tu subivi un soppruso da qualcuno, andavi a metterti sotto la sua porta, fuori dalla sua casa, e aspettavi lì digiunando. Come dire, ti disprezzo in tal modo, mi hai trattato male, io ti disprezzo e vengo fuori dalla tua casa e non entro e non mangio quello che eventualmente mi offriresti. E quindi è un segno di disonore per te, per chi abita in questa casa. Quindi adottarono questo sistema di protesta, per certi versi moderno, era quello fatto anche da Gandhi, ma che aveva delle radici profonde nella storia dell'Irlanda celtica. Ecco, questi sono i funerari Bobby Senza. Appunto, torniamo un attimo a cosa accade allora. Accade che davanti alla sordità assoluta inizia questo sciopero della fame. Lo sciopero della fame viene intrapreso da diversi militanti dell'Ira e dello Sinn Féin imprigionati. Lui è il primo che muore dopo 66 giorni di sciopero della fame, in cui beveva soltanto. Quindi fu una, come potete immaginare, una lunghissima agonia. Chi in quel momento guidava la Gran Bretagna era Margaret Thatcher, che fu assolutamente intransigente. Nessuna trattativa, nessun negoziato, nessuna possibilità di parlare. Addirittura per cercare di salvargli la vita, ci fu una elezione supplettiva. Era venuto a mancare un deputato dell'Irlanda del Nord, come accade adesso anche da noi. C'era accanto un seggio in Parlamento, fai l'elezione in quel collegio. In quel collegio lo Sinn Féin candida Bobby Sands. Bobby Sands viene eletto, viene eletto, quindi era un collegio innominale, e quindi è un parlamentare di Westminster. Cioè il governo inglese e la Thatcher non hanno nessun rispetto nemmeno per qualcuno che è un parlamentare e che quindi dovrebbe avere una posizione di un certo riguardo e rispetto. Quindi lui muore da parlamentare per lo Sinn Féin, per il Parlamento britannico, esponente naturalmente però dello Sinn Féin. Quindi non c'è nulla da fare, c'è questa assoluta insensibilità. Tentano in tutti i modi, perfino a livello internazionale, ci sono delle pressioni. Addirittura il Papa, Giovanni Paolo II, manda il proprio segretario personale che era irlandese, si chiamava John McGee, e per dare un segno dell'appoggio che dava a Bobicenze, gli manda una croce d'oro, un crocifisso d'oro. Tra l'altro questo fece scalpore, diceva, ma come? Questo si sta suicidando, si sta suicidando e il capo della Chiesa avvalla un suicidio, ma era chiaro che quello non era un suicidio, quello era veramente un sacrificio d'amore per il proprio popolo. Per cui non c'è nessun ascolto, non c'è nessuna... e lui muore, e dopo di lui, tra l'altro anche questo è impressionante, perché i suoi compagni di prigionia avevano visto come era morto, avevano visto la sua agonia, eccetera. Eppure, infatti io spesso lo sottolineo, Bobby Sands e gli altri nove hunger strikers, cioè scioperanti della fame. Gli altri vanno avanti e quindi moriranno in dieci per cercare di attirare, di avere un'attenzione, una solidarietà che arrivò anche, ma da parti inaspettate, al di fuori anche naturalmente ovviamente della Gran Britannia. Per esempio, negli Stati Uniti c'è una forte comunità di origine irlandese, perché a causa anche della grande carestia che aveva flagellato l'Irlanda nell'Ottocento, molti irlandesi erano immigrati in America, in Canada, eccetera. Ci sono delle città come New York, specialmente Boston, che sono città irlandesi. Beh, i portuali, questa grande categoria, questa nobile categoria, i portuali di New York, di Boston, bloccarono i porti prima dopo la morte di Bobby Sands. Quindi, e poi comunque ci furono anche in altri paesi manifestazioni, eccetera, soprattutto le comunità irlandese nei vari paesi. Curiosamente anche in Italia, cioè curiosamente, allora curiosamente è un'altra cosa, anche in Italia ci furono le manifestazioni di solidarietà che erano stranamente bipartisan, cioè dalla parte di Bobby Sands ci stava o la destra, la destra identitaria, la destra, come dire, anche, chiamiamola antiimperialista, perché no, e una sinistra, potremmo dire l'estrema destra e l'estrema sinistra, il meglio dalla destra o dalla sinistra, quindi non certo a sinistra il PC, ma giornali come il Manifesto, sinceramente, cioè, o altre esponenti che davano la loro solidarietà e quindi, ripeto, curioso ma non troppo questa lettura. Era una lettura fondamentalmente di due parti politiche molto diverse, come ben sappiamo, tra di loro, ma fondamentalmente avendo in comune una chiara lettura di quegli avvenimenti, che hanno una lettura, appunto, di una, di un conflitto, appunto, coloniale. Chiaro che c'è una certa visione anticoloniale di sinistra, che conosciamo bene, c'era, perché ormai non c'è più, ma c'era anche questa visione da parte di una certa destra, di un conflitto, di una certa destra che ha sempre avuto anche cari valori religiosi, diciamocelo pure, quindi la solidarietà a Bobby Senza era perché era cattolico, era perché, appunto, esponente di una, di una tradizione irlandese celtica, e sappiamo cosa vuol dire il celtismo, per, anche qua, a destra, e poi l'antimperialismo, specialmente l'imperialismo britannico, sappiamo che qua cos'è la perfida albione, quindi. Ma il 5 maggio, appunto, a conclusione di tutto, il 5 maggio 1981, Bobby Senza, muore. E questi, vedete, sono i funerali, e vedete, ovviamente, un mix di tradizione, il piper con la cornamusa, strumento celtico, cioè della scossa, diciamo, uno pensa, la cornamusa è scozzese, ma è anche irlandese. Gli irlandesi non hanno il kilt degli scozzesi, ma hanno questo kilt color zafferano, perché lo zafferano era il colore dei guerrieri antichi, dei guerrieri scelti. Quindi, vedete, abbiamo il paramilitare, abbiamo quello che sono la cornamusa, e abbiamo una folla enorme, che si riversò, il funerale era stato proibito, ma, ecco, ci furono centinaia di migliaia di persone presenti. Ecco, questa era la donna che aveva voluto, la Thatcher, e vedete, guardate cosa scrive, Bobby Sands era un criminale, ha scelto di togliersi la vita, una scelta che l'organizzazione alla quale apparteneva non ha concesso a molte delle sue vittime. Contrappone al sacrificio di Bobby i morti, ma erano morti, le altre vittime erano quelle che erano anche, come dire, provocate da uno stato di conflitto. Se avessero gli inglesi voluto trattare, certamente, forse non ci sarebbe stato bisogno, magari, degli scontri a fuoco, degli attentati dinamitardi, eccetera. Comunque, anche di fronte alla morte di un ragazzo di 27 anni, che tutto era, fuori che un criminale, questo fu il giudizio della Thatcher. Ecco, vedete, tra l'altro, apro una piccola parentesi, che però non guasta, visto anche dove siamo, visto chi ha creato questo posto, visto che ci stava dietro, come il nostro caro amico Enzo De Canio, davvero è, c'è quasi un abisso tra la destra identitaria, la destra antimperialista, la destra delle radici, e una destra come quella di Margaret Thatcher, cioè proprio la destra bieca, la destra, come dire, che ha come unica preoccupazione gli aspetti economici, l'ordine costituito. Bobby Sanz era uno che scendeva nelle piazze, non ha mai sparato un colpo di pistola, ma scendeva nelle piazze, quindi era, disturbava l'ordine costituito. Quindi questa è la destra law and order, no, come si dice, legge e ordine. Invece, appunto, potremmo dire, un uomo come Bobby Sanz era assolutamente invece trasversale, così come quelli che l'hanno seguito, apprezzato, eccetera, no? Perché ogni tanto, anche quest'anno, quando sono usciti articoli ricordando il 1981, anche qua spesso si sente dire, sì, ma non era, perché voi di destra lo ricordate, non era mica di destra, era di sinistra, e così via. In realtà Bobby Sanz andava oltre queste definizioni veramente anche un po' vecchie, che ormai, lo vediamo adesso con quello che sta succedendo con la rivoluzione pandemica, ormai c'è ben altro, ormai c'è chi sta dalla parte dell'uomo, c'è chi sta dalla parte, come dire, dei valori fondamentali, identità, libertà, e poi c'è tutto il resto, c'è chi sta dalla parte, chi ama la dittatura, che sia di destra, che sia di sinistra, che sia appunto, l'ordine è costituito. Ecco, questi sono, ci furono tante manifestazioni, vedete appunto, questa era a Parigi, fiori, eccetera, quindi, e queste sono le immagini che vengono portate degli altri ragazzi che fecero lo sciopero della fame, Pazio Ar, Francis Hughes, eccetera, tutti i nomi che non vengono dimenticati nemmeno oggi, grazie al cielo, in Irlanda. Almeno l'Irlanda, l'Irlanda di oggi ha tanti difetti, è un paese anche molto sbracato, non è più l'Irlanda che abbiamo conosciuto, anche con l'amico Luca anni fa. Tra l'altro qua c'è Luca Caremi che è stato uno dei pochi italiani iscritti allo Sinn Féin. Ecco qua, questa è la tomba di Bobby Sensen, il cimiteo di Milltown, Belfast, io potei, come dire, ebbe il piacere di vederla, di portarci un fiore qualche anno fa, vedete le parole dicono appunto che hanno torturato la mia mente, ma non mi hanno piegato. Tra l'altro anche recentemente è stata scoperta, Bobby scriveva poesie in carcere, era veramente anche lui un poeta, è stato pubblicato molte cose. Vi voglio leggere questa straziante poesia che è stata appunto ignota fino a poco tempo fa, perché scrivevano in carcere dove potevano, anche sulla cartigenica scrivevano e poi cercavano di fare vera l'esterno. E si chiama L'inferno più grande, questa poesia, che inizia così. C'è una prigione dove anime disperate sono state rinchiuse, ci sono tombe di cemento di sei metri quadri dove a malapena si intravede la luce del giorno, dove in inverno, in lungo e oscuro inverno, il corpo conosce il morso pungente del freddo. E il vento, non uno spiffero, fa venire i brividi all'uomo più robusto e placa i coraggiosi e gli audaci, dove un uomo è costretto a giacere su un materasso umido e lercio, sopra un pavimento gelido, nudo, fatta eccezione per alcuni luridi stracci. Il cuore grida e il corpo chiede, Dio Santissimo, cos'altro ancora? Ecco, quando Bobby l'aveva scritta non immaginava che c'era qualcos'altro e quel qualcos'altro furono quei 66 giorni di agonia, prima di arrivare appunto alla fine. Ecco, e questi sono tutti gli altri, vedete, Bobby Sands il 5 maggio 81 dopo 66 giorni, Martin Hughes, Francis O'Hara, Raymond McCrish, Joe McDonough, eccetera eccetera, Arson, Lynch, Doherty, McElwee e l'ultimo Mickey Devine morto il 20 agosto 81. A quel punto arrivati a dieci, a dieci martiri, Lira stessa decise basta. Altri erano pronti, altri volontari avevano già iniziato, ma appunto davanti tanto al muro, al muro inglese era l'utile continuare davvero a sacrificare queste vite, per cui Lira decise di mettere fine allo sciopero della fame. Come naturalmente corollario di questo omaggio che abbiamo voluto dare, e ringrazio davvero Domus Orobica perché quasi nessuno si è preoccupato di questo anniversario, è giusto dire che cosa è successo dopo. Appunto, il dopo è stato un lungo tormentato cammino con ancora difficoltà, con ancora sacrifici, con ancora morti, eccetera. Si è arrivati alla conclusione di tutto questo, ma in realtà non siamo ancora alla fine, nel 1998 la tregua, i cosiddetti accordi del Venerdì Santo, la decisione di mettere fine al conflitto armato e di spostarlo sul piano della dialettica politica. In seguito c'è stata anche la possibilità di votare per il Parlamento, quello di Stormont, e addirittura di costituire una strana maggioranza, non tra i partiti moderati, perché c'erano anche partiti moderati, unionisti, ecco i lealisti vengono chiamati anche unionisti perché vogliono mantenere a tutti i costi l'unione con il Regno dito, con la Gran Bretagna. C'erano partiti moderati dell'una e dell'altra parte, ma alla fine, incredibilmente, l'unico governo che è riuscito a reggere per un po' di tempo è stato un governo di coalizione tra lo Sinn Féin, quindi la parte considerata più estrema del movimento per la riunificazione dell'Irlanda, e dall'altra parte un partito di unionisti il più duro, il più estremo. Per cui paradossalmente sono riusciti a parlarsi e a trovare, gente che fino a poco tempo prima si era sparata da una parte all'altra dei muri di Belfast, sono riusciti, forse proprio perché così profondamente magari identitari, lo dico anche sul versante lealista, indubbiamente con il loro Union Jack, con il loro Arancione, con il loro, come dire, con anche certe loro tristi liturgie politiche, eccetera, però alla fine sono riuscito a trovare, ad avere un'idea di bene comune che ha fatto andare avanti un po' l'Irlanda, del Nord. Ora, ora però, cioè è sempre, questa regione è sempre una polveriera, perché comunque ognuno ha diversi obiettivi di queste comunità. I cattolici e repubblicani vogliono la riunificazione con il resto dell'isola. I protestanti unionisti, lealisti, continuano a voler stare attaccati a Londra, ma ora c'è anche una nuova variante che crea problemi, che è la variante Brexit, perché il voto irlandese della Brexit, come quello scozzese, paradossalmente non è stato come il voto inglese, è stato per restare in Europa. E voi mi direte, ma come in questa Europa che fa schifo? Certo, è tutto vero, è come, però in Scozia appunto la maggioranza anti-Brexit è stata notevolissima, ma gli scozzesi stessi ti dicono, se gli chiedi perché avete votato per l'Europa? In realtà abbiamo votato solo per staccarci, perché se l'Inghilterra ha tutto il pieno diritto di staccarsi dall'Europa, allora anche noi abbiamo il pieno diritto di staccarci dall'Inghilterra e di dire noi rimaniamo in Europa, ci sentiamo europeisti e vogliamo vedere se l'Europa non ci dà una mano e quindi le istanze indipendentisti scozzesi si basano su quello. Ma anche in Irlanda del Nord, in Irlanda del Nord la maggioranza ha detto sì, restiamo in Europa. E anche qua perché? Perché è puramente strategico, non c'è nessun innamoramento dell'euro o degli eurocrati, semplicemente perché? Perché gli irlandesi che dicono noi vogliamo stare in Europa, la Gran Bretagna ne esca pure, ma qua sotto di noi c'è uno Stato con capitale Dublino che è in Europa e quindi noi vogliamo entrare in Europa. Ma la cosa interessante è che la maggioranza ha votato appunto no alla Brexit e una maggioranza che ovviamente non poteva costituirsi se non con il voto di tutte e due le comunità, cioè hanno detto no alla Brexit sia i cattolici che i protestanti. Quindi potrebbe essere un primo passo per cercare di venirsi incontro e per potersi poi finalmente ritrovare in un unico Stato, potere veramente finalmente riunificare queste due parti dell'Irlanda. magari anche per biechi motivi economici, perché probabilmente adesso la Brexit sta portando di prima battuta benefici alla Gran Bretagna o meglio all'Inghilterra, non ne sta giovando assolutamente la Scozia anche in termini di sviluppo eccetera eccetera e nemmeno l'Irlanda del Nord e forse almeno per motivi economici i protestanti lealisti potrebbero fare quattro conti e dire ci conviene di più stare in uno Stato irlandese e quindi fonderci finalmente con la Repubblica di Dublino. E allora anche se per motivi magari non proprio nobili, il sacrificio, il sacrificio dei martiri del 1916 e il sacrificio di questi ragazzi martiri del 1981 potrebbe come dire finalmente dare i suoi frutti e finalmente l'Irlanda potrà diventare un'unica patria per tutti. Grazie.